Sì, è stato il primo corso. Sicuramente l'idea rivoluzionaria dell'azienda e l'idea rivoluzionaria del tipo di corso, la tipologia di corso frequentato, quindi nel settore, onestamente avendo avuto alte esperienze in aziende di vendita di energie e gas, è la prima unica nel suo genere. Si caratterizza molto nei contenuti, nel senso che, a differenza di altri corsi fatti con altre aziende, la parte tecnica, di competenza tecnica, appunto sulla lettura delle fatture, piuttosto che tutti i passaggi del sistema energetico e quant'altro, vengono toccati marginalmente, ma non per importanza, ma in maniera molto leggera e marginale. Questo corso molto si concentra sull'aspetto della vendita moderna, che, a differenza del passato, è veramente rivoluzionaria. Assolutamente concordi a questo tipo di impostazione, perché realmente con questa metodologia il cliente è il fulcro centrale di tutte le nostre attività e quindi del modo di pensare, di ragionare in questa azienda. Mi ha colpito molto lo spingere, comunque, il battere molto sulla relazione da creare con i clienti. Come dice Saverio, è molto importante il prima, quindi conoscere il cliente, sapere con chi ci dobbiamo interfacciare, piuttosto che sapere essere, come dire, realmente attenti a quello che il cliente, insomma, sostanzialmente, essere interessati alla sua vita, alla sua storia, appunto perché poi questa relazione deve essere coltivata nel tempo e sicuramente se ne traggono benefici sia per noi consulenti che per il cliente stesso. Mi ha colpito questo studio... Allora, io Saverio Bufi lo considero un sognatore realista, cioè nel senso che lui ha una visione della vita, consentitemi questa espressione, completamente fuori dagli schemi, nel senso che lui vede delle cose già, voglio dire, molto in anticipo rispetto a quelli che sono i tempi e quindi sostanzialmente riesce poi a materializzare queste sue visioni e questi suoi sogni a concretizzarli in realtà. Quindi sicuramente è un vulcano, come dire, è sempre work in progress, bisogna avere veramente la pazienza e l'energia di stabilire. Un giudizio molto, molto positivo perché è proprio una formazione con dei formatori fuori da ogni schema logico del settore energetico.